Buonasera a tutti, qualche breve dichiarazione. Molti cittadini non sono rimasti contenti, ovviamente le nuove misure del decreto lo stiamo vedendo. Questo è anche comprensibile, tutti speravano, o comunque molti speravano, di ritornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per ritornare alla normalità. Questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro, in modo forte. Noi stiamo attraversando, adesso ci accendiamo ad attraversare la fase 2, la fase 2 è quella di convivenza con il virus, non la fase della liberazione dal virus. Vorrei ricordare che siamo in questa situazione perché c'è stato un paziente, un paziente zero in Italia, che ha portato a questa situazione. Oggi noi siamo con 105.000 contagiati. Domenica abbiamo avuto 2.300 contagiati nuovi, 256 nuovi decessi. Quindi se affrontassimo questa fase 2, che significa convivere con un virus che continua a diffondersi, non con un atteggiamento prudente e responsabile, avremo la conseguenza, ovviamente, di comportamenti assolutamente imprudenti, assolutamente irresponsabili e chiaramente la curva epidemiologica ci sfuggirebbe di mano. Vorrei anche ricordare che con questo provvedimento, già con le misure adottate dal 4 maggio, noi immettiamo, mandiamo al lavoro, questo significa anche sui mezzi pubblici, sugli autobus, mezzi di trasporto, 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori. 4 milioni e mezzo che vanno ad aggiungersi ai tanti lavoratori che stanno già lavorando. Quindi sarà un flusso significativo che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. E poi ancora avremo un altro blocco, il 18 maggio, e ancora altri blocchi, il 1 giugno. Secondo voi sarebbe responsabile affrontare, dopo tante rinunce e sacrifici, la fase 2 in modo diversamente prudente, in modo assolutamente sconsiderato, con arrentatezza, improvvisazione. Non ce lo possiamo permettere. Lo dobbiamo per rispetto a tutti coloro che sono morti, alle famiglie che stanno soffrendo e a quelli ancora che sono contagiati. Dobbiamo preservare la salute di tutti gli altri cittadini. Ecco perché dico che stiamo facendo tanti sacrifici. Non è questo il momento di mollare. Non è un momento questo di libera tutti. Lo voglio dire chiaro. Questo Governo non cerca il consenso. Questo Governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste. Anche se questo dovesse scontentare il gran numero dei cittadini. Però i cittadini devono avere fiducia sul fatto che le nostre decisioni sono decisioni responsabili nell'interesse generale e collettivo di tutti. Quindi predisponiamoci a rispettare le misure di distanziamento sociale. Abbiamo introdotto qualche allentamento di queste misure. Ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase. C'è qualche allentamento studiato. Abbiamo e daremo la possibilità dal 4 maggio di poter fare attività sportiva. L'avete sentito. Attività sportiva anche allontanandosi dalle immediate vicinanze della propria abitazione. Perché si rispetta la distanza di due metri. Ci potrà essere libero sfogo all'attività motoria. Perché si rispetta la distanza di un metro. Anche qui allontanandosi dalla propria abitazione, in parchi pubblici. Sono misure studiate per affrontare questa fase. Per cercare di alleviare anche le sofferenze, immagino anche psicologiche, che tutti stiamo affrontando. Però questo non significa che noi buttiamo a mare tutti i sacrifici sinquiffati. Dobbiamo continuare ad agire in modo responsabile. Grazie. Beh, ovviamente non sono venuto nella fase più critica perché l'apporto del Presidente del Consiglio, che non è un sanitario, non sarebbe stato un apporto, anzi forse avrebbe anche creato intralcio nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria. Quindi il primo momento utile era già nei miei proponimenti di venire. Sarò qui, sarò a Brescia, sarò a Bergamo. Se riesco già questa sera vorrei passare a Cotogno Lodi, ho degli orari un po' strani, spero di non creare per questo dei problemi. Poi ovviamente non posso dimenticare, c'è anche Piacenza, ma ritornerò, ritornerò presto perché adesso è una fase in cui, diciamo, c'è sempre una situazione di grande emergenza, però è la fase in cui forse do anche meno intralcio e concretamente, diciamo, meno fastidio agli operatori e ai responsabili che stanno operando in questa emergenza. Sui congiunti, il Presidente, quando dice che si potranno raggiungere i congiunti, si chiarisce, se c'è il Vettore Familiario o anche il Vettore Familiario? Guardi, congiunti è una formula un po' ampia, generica, per dire che non sarà, adesso poi lo preciseremo anche con le facche, però voglio anticipare che non significa che si potrà andare in casa altrui in modo a trovare amici, parentesi, a fare delle feste, eccetera. Si andranno a trovare le persone con cui c'è un rapporto di parentela, con cui ci sono stabili reazioni affettive e via discorrendo. Ecco, però non significa incontriamoci liberamente le case tra amici, diamoci pacche sulle spalle, perché, vorrei ricordarlo ancora una volta, un quarto dei contagiati, la causa di un quarto dei contagiati è nelle reazioni, negli appartamenti, in casa, nelle abitazioni private. Presidente, si ha avuto un tema con la CEE, le messe, le celebrazioni? Ma io guardi, l'ho detto anche ieri nella conferenza stampa, dispiace molto perché questo Governo, ovviamente, rispetta tutti i principi costituzionali, c'è una libertà religiosa, una libertà di culto, di professare, anche con la pratica religiosa, la propria fede. Quindi dispiace, ovviamente, di creare, diciamo, un comprensibile rammarico nella CEE e nella Chiesa italiana. Però ci siamo anche sentiti con il Presidente Bassetti, ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti con loro, non c'è assolutamente nessun atteggiamento materialista da parte del Governo, nessuna insensibilità su questo. C'è, sì, una grossa rigidità, come è stato anche anticipato, da parte del Comitato Tecnico Scientifico, sul presupposto che, diciamo, anche nella letteratura scientifica che loro hanno, la pratica religiosa è una delle fonti, ma direi statistiche, da quanto è stato rappresentato per quanto riguarda i focolai epidemiologici. Però, come ho già anticipato, adesso ci lavoreremo, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni liturgiche in piena sicurezza. Frattanto, come è stato già anticipato, avremo un'apertura già per le celebrazioni funebri. E poi, con questo protocollo che contiamo di definire nel pieno spirito di collaborazione con la CECO, con la Chiesa dei Vescovi Italiani, definiremo, diciamo, un percorso per poter garantire, anche nel loro interesse, ovviamente, perché mi metto nei panni della responsabilità di un parogo che apre la Chiesa dei Fedeli e vuole garantire la massima sicurezza. Ma noi, guardate, in realtà siamo predisposti per misure territorialmente circoscritte. Quindi, la razza di questo piano, la filosofia è di avere un piano nazionale, perché altrimenti non si può controllare. se uno lascia fare a livello territoriale e quindi ognuno va per la sua strada, sarebbe impossibile addirittura avere un piano, quindi un principio di razionalità, diciamo, che ci consentirà di governare la fase 2, la fase della convivenza. Dopodiché, se dovessimo misurare il compito del Governo di approcciare con gradualità questa fase, se dovessimo, dopo il primo blocco di ripartenze che avremo, il secondo blocco e via discorrendo, verificare che c'è una curva di contagio che sfugge al controllo, ovviamente sarà fatto questo non in astratto, ma tenendo conto anche della recettività delle strutture ospedaliere locali, quindi sia la densità dei contagiati, il numero dei contagiati, la densità rispetto alla popolazione, la recettività delle strutture ospedaliere. Ecco lì sì che intervenderemo a chiudere il singolo rubinetto. Quindi è un piano molto elaborato, poi quando lo conoscerete in dettaglio lo vedrete, ma che ci consente anche di tener conto, diciamo, delle realtà territoriali. Grazie. Presidente, se vi fosse un'altra domanda, le poste serie, comprese alle famiglie che hanno tutti che devono ripenere il lavoro, arriveranno, perché quelle di lavoro, quindi di giorni di quattro... Ma guardi, oggi ho fatto... Ma guardi, oggi, prima di venire qui, ho ritardato, volevo venire prima, perché abbiamo avuto due videoconferenze, proprio con l'osservatore per le famiglie e con una delegazione di parlamentari per quanto riguarda proprio le misure per l'infanzia. Stiamo studiando, ovviamente, quelle che sono delle misure, oltre a quelle che lei ha citato, che erano già nel decreto cura Italia, cioè congedi straordinari e poi misure bonus per Baby City. Stiamo studiando altre misure, ovviamente, per cercare di sostenere le famiglie. ci rendiamo conto della difficoltà particolare del fatto che avere dei figli in casa che non vanno a scuola crea, chiaramente, un fatto su cui le famiglie non erano preparate e anche questo è un fatto emergenziale. E cercheremo di dare sostegno economico. Stiamo studiando un piano per l'infanzia, in particolare per i ragazzi, le ragazze che vanno a scuola e cerchiamo anche di affrontare, anche in prospettiva, l'estate con delle misure. Torneremo presto a riferire. Grazie.